Sono 484 le persone che sono riuscite a sconfiggere coronavirus mentre salgono a 65 comuni covid-free, è il dato aggiornato ad oggi dell'Asla Avellino sull'emergenza coronavirus in Irpinia. Sono invece 5 le persone a domicilio in attesa di guarigione mentre resta solo un paziente ospedalizzato. Delle 63 persone risultate positive invece al tampone nasofaringeo a seguito dello screening sereologico disposto dalla regione Campania nel comune di Ariano Irpino. Sono 60 le persone dichiarate guarite a seguito del doppio tampone negativo. Tre sono in attesa di dichiarazione di guarigione. In totale dunque in provincia di Avellino sono 9 le persone in attesa di sconfiggere il virus. In Campania, alla luce del bollettino aggiornata ad oggi dall'unità di crisi, invece il totale dei positivi dall'inizio dell'emergenza coronavirus è di 4.634 su un totale di tamponi effettuati pari a 267.306. Inoltre, dagli 834 tamponi processati oggi, 10 sono risultati positivi al Covid-19. 431 è il totale delle vittime nella nostra regione, mentre i guariti del giorno sono due per un totale di 4.062, di cui 4.056 totalmente guariti e 6 clinicamente guariti. Inoltre, l'Aggiunta regionale ha approvato la delibera con cui si definisce il piano per il potenziamento delle reti ospedalieri secondo quanto disposto dal decreto rilancio del Governo. Il piano risponde all'indicazione del Ministero della Salute di incrementare ulteriormente i posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva in Campania, al fine di garantire anche pluralità di soluzioni assistenziali e dare un'adeguata risposta all'emergenza da Covid-19. Per la terapia intensiva, l'incremento a livello regionale è pari a 834 unità. Per quanto riguarda l'Irpinia, i posti di terapia intensiva resteranno 4 negli ospedali di Sant'Angelo dei Lombardi e Solofra, mentre passeranno da 6 a 13 al Frangipane di Ariano Irpinio e al Moscati raddoppieranno, passando da 22 a 44. I posti di terapia subintensiva saranno 2 a Sant'Angelo dei Lombardi, 10 a Ariano Irpinio e 31 al Moscati.